Al via oggi l'ultima settimana della campagna abbonamenti del nuovo Parma Calcio. L'obiettivo finale è quello a questo punto di raggiungere quota 9.000. Al momento le tessere sottoscritte risultano oltre 8.500. Chiuso ormai la vendita online, da oggi a venerdì ci sarà comunque la possibilità, per chi non l'avesse ancora fatto, di comprare l'abbonamento per la prossima stagione presso gli sportelli dello Stadio Tardini e le filiali Cari Parma di città e provincia. Conclusa poi la campagna abbonamenti, sabato sera la squadra di Apolloni verrà presentata ufficialmente alla città. L'evento si svolgerà in Piazzale della Pace. Nell'occasione ci sarà anche la presenza di Sky Sport, con cui è stato da tempo siglato un accordo che prevede la trasmissione indiretta di tutte le partite della squadra crociata con la formula pay per view o attraverso uno specifico abbonamento. Il problema è però rappresentato dall'accordo non ancora raggiunto con la Lega Nazionale Dilettanti, che deve dare l'avvallo all'operazione e che ha già in essere un accordo collettivo con la RAI. La presentazione della squadra sabato non coinciderà con la presentazione degli sponsor. Come anticipato dalla nostra TeleDucato, i marchi principali che sosterranno il Parma nella nuova stagione dovrebbero essere Navigare per la prima squadra e Ringo per il settore giovanile. Ma il club complessivamente godrà di un ventaglio di brand da fare invidia a società di Serie A. Dopodomani intanto quinta amichevole stagionale a Monza, lo Stado Brianteo, alle ore 20, mentre domenica al Tardini testa contro Lentella. Dopodomani inoltre è attesa la composizione ufficiale dei gironi della nuova Serie D.